Eccoci e bentornati sul mio canale! Nuo video di news, nuovo video di aggiornamenti su Call of Duty Advanced Warfare. Direttamente dal profilo ufficiale Twitter di Michael Condre, il co-founder della Sledgehammer Games e che è la casa di sviluppo del titolo, arriva una notizia veramente devastante. Ormai Call of Duty Black Ops 3 è prossimo, ma il supporto che viene dato su Call of Duty Advanced Warfare continua quasi ad un anno di distanza. Infatti Michael Condre ha pubblicato l'immagine di quella che sembra essere una nuova arma in arrivo su Call of Duty Advanced Warfare. Leggendo proprio il tweet che ha fatto Michael Condre si legge punti doppi, bonus, nuove armi e altri segreti in arrivo da parte della Sledgehammer Games. Quindi qualcosa veramente di sensazionale è in arrivo su Call of Duty Advanced Warfare. Io sono veramente contento del continuo supporto che è stato dato a questo titolo e veramente non vedo l'ora di mettere mano alle nuove novità di questo, spara tutto in prima persona. Fatemi sapere che cosa ne pensate ma più che altro che idea vi siete fatti sull'immagine di questa nuova arma che sembra veramente incredibile ma più che altro sembra dare scariche elettriche. Perché come vedete sembra che ha un caricatore di energia elettrica. E se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ancora in tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.